Ciao a tutti voi da Rosi, appuntamento dalla nostra vetrina dell'auto con Mocauto e con Roberta Mauri, che conoscete già benissimo, responsabile marketing. Ciao Roberta! Ciao a tutti, buonasera, siamo in Mocauto, ben ritrovata Rosi dopo tanto tempo, siamo nella location principale di Mocauto in via d'Emissario 89 a Milano, in questa location potete trovare gli showroom di tutti i nostri 18 brand rappresentati, però abbiamo anche altre tre sedi che vi illustro e che vedrete in sovraimpressione, sono uno showroom Mazda a Monza, uno showroom Mazda e Devo a Paderno Dugnano e un nuovissimo showroom Mazda ed MG a Melegnano. Abbiamo detto 18 marchi rappresentati, questo ci permette di offrire ai milanesi e ai monzesi un'offerta davvero variegata di vetture, di modelli, di brand, in modo da poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e dei nostri potenziali clienti. Ovviamente oltre alla gamma delle vetture completiamo l'offerta con tutti i servizi che servono e sono indispensabili per la gestione della propria automobile, quindi servizi finanziari, assicurativi e manutentivi. E per chi cerca un'auto usata o chilometro zero abbiamo uno showroom dedicato di ben 8000 metri quadrati e un sito e-commerce dove è possibile acquistare la propria auto usata 100% online oppure prenotarla, ma sempre con l'opportunità di poterla visionare in showroom, ovviamente su tutti i marchi. Oggi vi presentiamo due brand innovativi, DR ed MG. In questo momento ci troviamo proprio nello showroom DR di Via De Missaio 89. Il brand DR si traduce sostanzialmente in due concetti, comfort e tecnologia. Comfort perché le vetture DR vogliono offrire un viaggio emozionante e con prestazioni da supercar tecnologia perché offrono ovviamente tutti i dispositivi all'avanguardia, smart key, assistenza al parcheggio, connessioni carplay, android auto, quindi tutto quello che vi serve per poter rimanere connessi. Non tolgo altro tempo al mio collega Manuel Martineghi che ci illustrerà tutta la gamma DR. Ben detto Roberta, quindi DR sinonimo di innovazione e dall'innovazione pura partiamo, quindi con la nostra Full Electric DR1, vettura unico nel suo genere, quindi una vettura completamente elettrica e nella sua categoria in assoluto quella con la più autonomia. Quindi parliamo di una vettura che nel ciclo urbano può arrivare sino a quasi 300 km, possibilità di ricaricarla con le prese slow, quindi in meno di 4 ore, addirittura una vettura già con la presa fast, quindi in 35 minuti piena carica. Come tutte le DR noi proponiamo vettura full optional, quindi completa di tutti gli accessori, vettura in pronta consegna, in questo momento ci sono ancora gli ecobonus statali, quindi affrettatevi. E una unica soluzione di promozione con un finanziamento sino a 120 mesi anche con anticipo zero, garanzia del costruttore ben 96 mesi. E quindi passiamo alla nostra gamma tradizionale, quindi le nostre ormai famosissime vetture termoabri, quindi le nostre vetture doppia alimentazione, quindi benzina e GPL, molto importante, quindi tecnologia a servizio chiaramente del cliente, quindi la possibilità di avere un grande risparmio con il costo del GPL. Vetture che si possono, ricordiamo, parcheggiare comunque ovunque DR3, quindi la nostra più compatta, un 1.5 da 116 CV, vetture disponibili con una motorizzazione, quindi sia con cambio manuale che con cambio automatico. Come tutte le DR, anche qui una vettura full optional, ok? Completamente con retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, fari LED e chi più ne ha più ne metta. E anche qui, diciamo, rapporto qualità-prezzo massimo, quindi prezzi a partire da 18.900 euro per la versione benzina e solo 2.000 euro in più per la versione termoabri, quindi b-fuel. Ora passiamo alla 5.0, nostro cavallo di battaglia, anche qui ci spostiamo su una sport utility un po' più grande rispetto alla 3.0, quindi passiamo a una vettura di circa 4,30 m, con abitabilità incredibile. Anche qui, vettura full optional, quindi vettura dotata di tutti gli optional, quindi dalla vernice metallizzata, ai fari LED, al sistema multimediale di ultima generazione con le connessioni Apple CarPlay, Android Auto, tettuccio apribile, addirittura la versione con il cambio automatico, qui davanti a me ha un sistema di parcheggio round view monitor, quindi telecamera a 360 gradi, motorizzazione 1.500, cambio manuale a 116 cavalli e addirittura 1.500 turbo con il cambio automatico da 153 cavalli. Prezzi, anche qui, veramente rapporto qualità-prezzo la fa da padrone a 21.900 euro per la versione benzina e solo 2.000 euro in più per accedere alla fantasmagorica tecnologia termo-hybrid DR. Passiamo ora a DR 6.0, quindi qui passiamo veramente alla Sport Utility, la nostra family SUV, quindi una vettura da 4,50 m, spazi enormi, allestimento incredibile, vetture ovviamente che sono prodotte anche qui con la nostra tecnologia termo-hybrid, quindi benzina GPL, doppia alimentazione, con serbatoio di oltre 50 litri di carburante, benzina e fino a 70 litri di GPL. Abbiamo disponibile sia la versione con il cambio manuale che la versione con il cambio automatico. Motorizzazione quindi unica 1.500 turbo da 153 cavalli e 5 anni di garanzia, ecco, importante questo perché tutta la nostra gamma V-Fuel, la gamma DR, ha 5 anni di garanzia. L'allestimento qua è veramente pazzesco, quindi addirittura sulla 6.0 troviamo di serie il tetto panoramico apribile, camera round view monitor, portellone elettrico, internamente abbiamo tutta l'illuminazione led con tutta la plancia digitale, è un prodotto veramente pazzesco, quindi qua partiamo da solo 27.900 euro per la versione benzina, anche qui 2.000 euro in più per la versione termo-hybrid, possibilità di dilazionamento, di pagamento, quindi finanziamenti completamente personalizzabili anche con anticipo zero, ma ovviamente grande rapporto qualità-preste. 7.0, quindi saliamo ancora, quindi SUV per famiglie numerose, quindi questo qui è una Sport Utility 7 posti di serie, quindi anche qui una vettura unica nel suo genere sul mercato, quindi abbiniamo gli 7 posti con la tecnologia termo-hybrid, quindi B-Fuel di serie, quindi cambio automatico di serie, motorizzazione quindi 1.500 turbo, 153 cavalli, allestimento anche qui come anche per la 6.0, anche la 7.0 è un allestimento incredibile con tetto panoramico apribile, fari full LED, interni in ecopelle con la regolazione elettrica, schermo multivision, LED di ultima generazione, tutte le connessioni. Qui ovviamente partiamo da, abbiamo la versione con il cambio automatico, versione benzina partiamo da 32.900 euro e anche qui solo 2.000 euro in più per accedere alla versione doppia alimentazione B-Fuel. Vi ricordo anche a completamento della nostra gamma, anche disponibilità della DR P-K8, quindi un pick-up vero, 4 ruote motrici, 2.000 turbo diesel, N1 di fabbrica, prodotto speciale da venire a scoprire qua in concessionaria Mokauto. Con questo io vi saluto e vi invito a venirci a trovare nella nostra bellissima concessionaria Mokauto e venire a scoprire tutti i nostri prodotti DR. Ci troviamo adesso nello showroom MG in via dei Missai 89, un marchio dalla lunga tradizione, dal 1924, un brand iconico che però si è rinnovato ed elettrificato per stare al passo con i tempi. MG ha quindi l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, grazie a una guida sicura, accessibile economicamente, tecnologicamente avanzata e con un'importanza all'impatto ambientale. Non ci resta quindi che scoprire tutta la gamma MG grazie al supporto del mio collega Alessandro Terraccia. Grazie Roberta, iniziamo la presentazione di oggi con la nostra vettura elettrica, la nuova MG4, una vettura che attualmente, prendendo in considerazione i nuovi incentivi statali sulla rottamazione, rottamando un veicolo Euro 2 e lo sconto di MG sull'MG4, la possiamo portare via ad un prezzo speciale di 14.000 Euro, tutto incluso. La versione base presenta già l'MG Pilot, con tutti i sistemi attivi alla guida, e l'MG iSmart, dove abbiamo l'Apple CarPlay, l'Android Auto e tutta una serie di servizi inclusi da applicazione diretta. Ci spostiamo adesso sul nostro SUV, MG HS, vettura che presenta un motore 1.5 da 160 cavalli, cambio manuale a se rapporti o cambio automatico. I due allestimenti sono Comfort o Luxury, è una vettura dal prezzo molto, molto, molto accessibile, con 25.490 Euro, un cliente può portarsi via la versione Comfort col cambio manuale. Vettura in pronta consegna di tutte le colorazioni presenti al listino. Concludiamo la presentazione odierna con la nostra punta di diamante. MG ZS, versione Comfort, versione Luxury, 17.540 Euro il prezzo della Comfort, 19.540 Euro il prezzo della versione Luxury, un'auto di 4,30 metri, la versione base presenta già tutto quello che si può richiedere ad un'automobile, è una vettura di grandissimo successo che stanno acquistando giovani coppie e anche famiglie di 4-5 persone. Cosa presenta in più la versione Luxury? Interni in ecopelle, navigatore incluso, cruscotto digitale, sedile anteriori riscaldabili, impianto audio a 6 casse e non manca assolutamente nulla. È una vettura in pronta consegna, anche questa presente in diverse colorazioni. Venite a trovarci e vi mostreremo tutte le nostre modalità di acquisto. Il nostro tempo purtroppo è terminato, mi preme ricordarvi i nostri siti, mocautogroup.com, overdrivemilano.it e usautocenter.it. Vi aspetto nelle nostre sedi Mocautogroup. Ciao, alla prossima. Grazie, ciao a tutti. Grazie.